La partita è chiusa, anzi no. Come sempre, quando si tratta di tasse sulla casa, c'è ancora un tempo supplementare. Che non ci fossero più margini per evitare la mini-imu strascico avvelenato della telenovela 2013 sull'odiata imposta, lo ha detto in apertura di giornata il ministro per gli affari regionali del Rio. Un modo come un altro per bloccare sul nascere l'onda montante del tassiamo il gioco d'azzardo e sopprimiamo la mini-imu, che graverà sui proprietari di prima casa nei comuni che lo scorso anno avevano applicato un'aliquota superiore al 2012. Del Rio ha spiegato che per il Ministero dell'Economia non ci sono più tempo e margini per una mossa del genere, ma per il suo collega Giampiero D'Alia, ministro della pubblica amministrazione, la possibilità ci sarebbe ancora. Diversità di vedute interna all'esecutivo che ha fatto scattare la reazione dei sindaci. Quelli dell'Emilia Romagna hanno preso carta e penna e non sono andati tanto per il sottile. Le obiezioni tecniche del Ministero dell'Economia a cui fa il riferimento del Rio, hanno scritto i sindaci emiliani, non se le beve neanche uno studente di prima ragioneria. Basta balle, hanno scritto proprio così. È solo una questione di volontà politica. Destinatari della missiva al vetriolo, il capigruppo di Camera e Senato del Partito Democratico e soprattutto il loro segretario Matteo Renzi, benzina su una materia tanto incandescente da attirare gli strali di opposizione e associazioni di categoria. E se sulla Mini-IMU 2013 l'unica certezza è che si dovrà pagare entro il 24 gennaio prossimo, poche ma confuse notizie si hanno sugli aggiustamenti da portare al nuovo sistema di tassazione degli immobili. Nulla si sa sulle scadenze perché la legge di stabilità lascia ai comuni la libertà di decidere quando e come far pagare tasi e tari che compongono la nuova imposta unica comunale. E sconosciuto è anche l'emendamento al quale lavora il Governo per alzare la liquota della tasi, la tassa sui servizi indivisibili dei comuni, in modo da finanziare le detrazioni a favore delle fasce più deboli. Quel che è certo è che i gruppi parlamentari di maggioranza non chiederanno modifiche al cosiddetto decreto IMU-Banchitalia che domani andrà in aula al Senato e sul quale si gioca la prossima partita sulle tasse sulla casa. Certamente c'è da scommettere, non l'ultimo.